Ed ecco, Daniele deve farci ridere! Oh, come si, come si! Mi ha toccato come fai scappare! A boom! A boom! Stiamo chiamando la programma quelli che voca! Sì, ma la faccio! Lo abbiamo molto più, non è molto più! A boom! A boom! segnale come ti senti? no no sento più male a vista non ci sape neanche bisogno di levare le mute in vita è un male, ho fatto tutto